Questa è la storia di un tempo lontanissimo, il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza, Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterno ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.